però sarebbe bello pesante non lo so vediamo dimmi ragazzo full timer pesca aguglia dai ragazzi dai che ce la possiamo fare su dai che ce la facciamo dai che ce la facciamo per tazze si danno eh full timer pesca porco cane dimmi eh non lo so però ne ho visti parecchi che mi stanno di intorno eh buon 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 sto cercando di prendere i pesci sto cercando di prendere i pesci come sono quelle che hai preso adesso non lo so non lo so ci sono comunque lo hai già visto però sono piccole un attrazzatura più leggera se mi sdraio qua riesco alla vita di essere l'amata se mi sdraio qua riesco alla vita di essere in lamata si dormi si dormi Grazie a tutti. 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 e 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 a tutti. a tutti. e 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 a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 sotto. a tutti. 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 a tutti.